Oh e ciao Pietro, io ho un grande progetto per questo tuo paradiso. Per esempio? Possiamo costruire grandi alberghi, casino, qui fare tutti i parcheggi. Praticamente un inferno. Ma tu lascia perdere questo pizza e questo mandolino. Pietro io ho anche portato un regalo per te d'America. Finalmente grande caffè americano. Senti Adallas, voi sarete pure andati sulla luna ma il caffè lasciato ce lo fa noi. Vedi America, il caffè se devi chiamare la mazza, dici perché? Perché deve essere buono. Questa è crema e gusto. Questo quando lo bevi dici ah quanto è buono. Ah quanto è buono il tuo quando lo bevi dici acqua. E basta. E basta è acqua. Che vuoi dire?